6 minuti sapevi che esistono diversi tipi di colli? Nonostante il più conosciuto sia il protagonista di Torna a casa Lessi, ci sono altri tipi di questa razza altrettanto adorabili e intelligenti. Ultimo aggiornamento, 16 luglio, 2021 Quando parliamo di colli dobbiamo tenere in considerazione che non ci stiamo riferendo ad una sola razza di cane. Esistono infatti quattro tipi di colli ufficialmente riconosciuti, ognuno con le proprie caratteristiche specifiche. I colli sono cani originari del nord dell'Inghilterra, in particolare della Scozia. Fin dalla loro comparsa sono stati usati come cani da pastore e, sebbene a livello caratteriale le diverse varietà mostrino delle somiglianze, a livello fisico è molto facile differenziarle. Non sapevi dell'esistenza di diversi tipi di colli? In questo articolo li scoprirai uno per uno, in modo da poterli riconoscere correttamente. Tutte queste varianti sono state validate dalla International Sinological Federation, FCI. Colli a pelo corto o smudo colli Iniziamo con l'OS Mute Colli, uno dei colli meno conosciuti fuori dal Regno Unito. In questa regione, infatti, è più comune vederlo come animale da compagnia di molte famiglie. È un cane da pastore emerso nel XIX secolo. Oggi è popolare come animale domestico, e può vivere perfettamente in città, adattandosi a qualsiasi dimora. Tuttavia, va sottolineato che è sempre consigliabile lasciarlo vivere in un luogo dove abbia la possibilità di esercitarsi liberamente. L'OS Mute Colli presenta un pelo corto e denso, grazie ai suoi due strati. Questo può essere blu merlè, tricolore o bianco e sabbia. Le sue misure variano, a seconda del campione, tra i 51 e i 61 cm, e il suo peso è solitamente compreso tra i 18 e i 30 kg. È un cane ben educato, con una grande capacità di apprendimento, attivo e molto tollerante con l'uomo, soprattutto con i piccoli di casa. Colli barbuto Il colli barbuto è un cane la cui origine si colloca nel XVI secolo. Sebbene a quel tempo fosse un cane da pastore, il suo ruolo stava perdendo rilevanza, così come la sua razza. Fortunatamente, nel XX secolo iniziò la sua ripresa. La sua altezza è generalmente compresa tra 51 e 56 cm, e il suo corpo allungato sostiene un peso compreso tra i 18 e i 27 kg. Presenta un pelo lungo che ricade sui lati del muso sul viso, come se fosse una barba. La pelliccia cade anche lungo il tronco, che è naturalmente diviso al centro della schiena. Questo mantello può essere di vari colori come blu, grigio, nero, fulvo o marrone. Parliamo di cani che vanno meravigliosamente d'accordo con le persone, in quanto sono allegri e di natura socievole. Inoltre, mostrano facilità quando si tratta di vivere con altri cani. E, pur essendo un cane originario della campagna, non ha problemi ad adattarsi alla vita in città, purché sia stimolato fisicamente e mentalmente ogni giorno. Naturalmente, rispetto agli altri colli riconosciuti dalla FCI, questo può essere un po' più testardo quando si tratta di imparare. Per questo motivo, esperti come quelli dell'International Association of Animal Behavior Consultants, raccomandano di affidarsi ad un educatore canino per la loro educazione. Border Collie, uno dei più popolari. Senza dubbio, il Border Collie è uno dei tipi di colli più conosciuti al mondo. Ciò non sorprende, perché ci troviamo di fronte al cane più intelligente di tutti quelli esistenti, almeno secondo l'elenco di Stanley Cohen. Per questo motivo, sebbene fin dalla sua origine nel XVIII secolo fosse un cane utilizzato solo come pastore di bestiame, oggi è un animale domestico molto apprezzato e un cane molto presente nelle gare di abilità e obbedienza. La sua bellezza e il suo portamento elegante sono un motivo in più per osservare questo canide molto speciale. Essendo cani così mentalmente attivi, hanno bisogno di molta stimolazione quotidiana. Per questo motivo, oltre all'attività fisica, prendersi cura di un Border Collie implica esporlo ogni giorno a sfide mentali. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi comportamentali che interrompono la convivenza. Con le persone si dimostra simpatico e affettuoso, ma non è consigliabile che vive in un piccolo appartamento. Ricordate sempre che ha bisogno di molta attività, quindi vivere in un luogo con abbastanza spazio per potersi esercitare all'idea ottimale. Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, è un cane di taglia media, con un'altezza compresa tra i 46 e i 54 cm, e un peso che può variare tra i 14 e i 22 kg, a seconda della taglia. Il suo pelo è fit e lungo e, sebbene il più noto sia bianco e nero, ci sono anche alcuni esemplari marroni, rossi, neri, tricolori o blu merlet. Colli scozzese o a pelo lungo Insieme al Border Collie, il Colli scozzese, o a pelo lungo, è senza dubbio un altro dei tipi di Colli più conosciuti. Anche questo non ci sorprende, dal momento che il famoso cane Lessi, protagonista e immaginario di film, serie e libri, era proprio di questa razza. D'altronde la sua intelligenza e bellezza lo hanno fatto diventare un cane molto apprezzato come animale da compagnia, tralasciando quel ruolo di pastore che ha svolto perfettamente fin dalle origini. Il Colli scozzese ha un carattere affabile, oltre ad essere molto intelligente, aspetto che aiuta molto nel suo apprendimento e nella sua educazione alla vita familiare. Due delle sue caratteristiche fisiche più notevoli sono il muso allungato, il cui naso è soggetto a scottature solari, e il pelo molto lungo, che deve essere spezzolato regolarmente per evitare nodi. Il colore tipico di questo cane è solitamente bianco e sabbia, tricolore oppure possono esserci anche esemplari con il pelo blu merlet. Altre caratteristiche del suo fisico sono il peso che varia tra i 18 e i 30 kg, a seconda della taglia, e l'altezza compresa tra i 51 e 61 cm. Il Colli e il Border Colli sono della stessa razza? Sebbene ci siano persone che menzionano il Colli come razza per riferirsi al Border Colli, poiché è una delle varianti più conosciute, questo è un errore. Non si dovrebbe parlare del Colli come di un cane particolare, poiché il nome si riferisce alle diverse razze che abbiamo appena elencato. Quindi no, non si può affatto dire che Border Colli e Colli siano la stessa cosa. Né il termine Colli dovrebbe essere usato esclusivamente per riferirsi al Colli a pelo lungo, a pelo corto o barbuto, poiché potrebbe creare confusione. È meglio non generalizzare e dare ad ogni tipo di Colli il suo nome completo e specifico. Sarebbe ingiusto consigliare di scegliere solo uno dei quattro tipi di Colli come animale domestico. Sono tutti cani molto intelligenti, socievoli, amorevoli e protettivi nei confronti della loro famiglia. Tuttavia, ci sono piccole caratteristiche di ciascuno che forse dovrebbero essere prese in considerazione quando si decide di scegliere l'uno o l'altro come animale da compagnia. Ad esempio, la grande attività fisica e mentale di cui il Border Colli ha bisogno ogni giorno richiede proprietari disposti a fornirla. Allo stesso modo, l'apprendimento del Colli barbuto è un po' più lento di quello degli altri, quindi chi lo desidera come animale domestico dovrebbe essere disposta a investire tempo nella sua educazione. Per il resto, qualsiasi tipo di Colli è ideale per vivere con persone e altri animali domestici, poiché sono cani particolarmente amichevoli con i bambini. Sono in parti uguali dolci, premurosi e leali, non perdete l'occasione di incontrarli. Potrebbe interessarti.